E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video Più sattente torniamo su Airstone per andare a vedere tante tante notizie Infatti riassumendo cosa sarà il video All'inizio andremo a vedere il Master Tour World Championship 2023 è arrivato In quanto ci saranno i drop attivi su Twitch Ora vi spiego esattamente come fare a seguire l'evento E soprattutto come ottenere le bustine che sono la cosa forse più importante di tutto quanto Successivamente dopo aver visto i mondiali di Airstone Andremo a vedere quando sarà la data in mini set Non dico che sia ufficiale perché non è ufficiale Ma fidatevi di me sarà probabilmente al 99% in quella data lì E visto che io non sbaglio mai vedrete che avrò ragione Quindi iniziate a risparmiare il vostro gold E poi infine alla fine del video per la terza parte Andremo a vedere la piccola patch che è uscita qualche giorno fa Che magari non vi siete visti ma che comunque è importante per molte persone Molti bug eccetera eccetera Ma comunque la patch l'andremo ad analizzare dopo Vi ricordo inoltre che uscirà una mega patch martedì Che riguarderà invece il bilanciamento di Airstone In cui il paladino probabilmente gli verranno tagliate le gambe Per quanto riguarda il video di oggi vi ricordo un bel mi piace Un'iscrizione prima di partire e andiamo a leggere l'articolo Innanzitutto vorrei fare un grande applauso a Lugozzi A dire è vero che ha ottenuto i diritti per essere co-streamer ufficiale dell'evento Quindi non solo sul suo canale saranno attivi i drop dove potrete andare a droppare le bustine Ma inoltre potrà seguire tutto l'evento Ci sarà lui, ci sarà Kaius Probabilmente passerò anche io in live Quindi vi aspetto numerosi sul suo canale che vi lascio qui in descrizione E niente tendenzialmente vi aspetto dalle 17 sul suo canale Poi i mondiali come vedremo dopo partono dalle 18 Però i drop saranno comunque attivi dalle 17 Per quanto riguarda l'articolo L'ultimo Master Tour dell'anno che in verità non è un vero e proprio Master Tour Ma è più il Championship Quindi è il mondiale È l'ultimo Master Tour che raggruppa gli altri tre Master Tour Sarà questo fine settimana I giocatori con il punteggio più alto nelle classifiche da gennaio a novembre Quindi solamente i migliori giocatori si uniscono ai campioni dei Master Tour Primaverile, Estiva e Autunnale Quindi per partecipare devi o essere un vincitore dei tre precedenti Master Tour Oppure devi essere il migliore in assoluto su tutto quanto Erson Per contendersi una fetta di montepremi di quanti soldi? 350.000 Rendiamoci conto quanti soldi sono Praticamente se analizzate è quasi, è poco meno di mezzo milione di euro Insomma cifre che da capogiro potremmo dire Scopri tutto ciò che devi sapere per goderti azione solo su Twitch e Youtube Andiamo a vedere tuttavia le informazioni più precise Quando sarà sabato 16, cioè oggi e domenica 17 Domani, domenica ovviamente ci saranno le fasi finali Alle 9 PDT che sarebbero le nostre 18 Come detto Lugozzi partirà in live un'ora prima In modo da iniziare a farvi droppare così siete super contenti Formato 4 mazzi, formato conquista, al meglio delle 5 con un'esclusione Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che praticamente le partite sono bio 5 Praticamente il vincitore dovrà almeno raggiungere 3 vittorie Ogni volta che vince deve cambiare il mazzo E inoltre come se non bastasse In tutto questo c'è anche un ban Quindi può decidere di bannare una classe in particolare In Montepremi come detto prima è di quasi mezzo milione di euro Il giorno 1 ci saranno 8 giocatori divisi in due gruppi Quindi 4 e 4 I migliori 2 di ogni gruppo passeranno alle finali Finali che invece ci saranno il giorno 2 Dove i primi 4 appunto avranno un tabellone con eliminazione diretta Il drop ottieni fino a due bustine maleterra Mentre guardi le trasmissioni su Twitch per tutto il weekend Quindi praticamente voi basta che vi collegiate ai 17 E andrete a droppare Qui ci sono i commentatori Dragon Rider Edru Lice Lorinda Raven Sottil E TJ Ovviamente i migliori telecronisti che Erson abbia avuto Ma che in verità ogni gioco di carte vorrebbe avere Ricordiamoci che Erson essendo ovviamente il gioco principale di carte al mondo Ha anche tra i migliori telecronisti in circolazione Qua ci sono i canali ufficiali Ma vi ricordo che appunto con streaming ufficiale Lugozzi Per quanto riguarda il videotrailer è questo qui Molto carino tra l'altro come trailer Ovviamente all'inizio abbiamo tutti quanti i vari trailer Dei vari filmati che si sono susseguiti durante queste ultime espansioni Qua i vari giocatori che si sono riusciti a portare a casa I Master Tour precedenti Quindi ad esempio Levick E molti altri che In verità molti altri Altri sette E stiamo parlando della Creme Della Creme Qui ovviamente poi c'è stata l'espansione di Titani Titani che ha visto invece come vincitore Dovrebbe essere Gyu o Pocket Train Sai che non mi ricordo Mi sa Pocket Train esattamente Infatti mi ricordavo bene Eccoli qua comunque tutti quanti i giocatori Bellissima anche questa grafica spettacolare E invece per quanto riguarda l'ultimo Master Tour E' esattamente questo qui Con in palio 350k Mila Euro Con appunto l'ultimo video E i vari vincitori dell'edizione passata E tra cui anche una ragazza Che è stata la prima in assoluto a vincere Mi pare due anni fa Qui ci sono i vari giocatori Pocket Train Gyu, Levick Angyu Meati Hemlock Requiem E Chikaka Ovviamente molti giocatori sono famosissimi Con Pocket Train Levick Abbiamo già visti prima Meati Uno dei giocatori più consistenti Il ladder Lo stesso vale ovviamente per Requiem Ma come abbiamo detto in precedenza Non è solo il Master Tour La notizia di oggi Abbiamo tantissime notizie Tra cui la data è in mini sette Per quanto riguarda il mini sette Infatti io Non posso darvi a certezza al 100% Ma diciamo che al 99% Vi dirò la data Praticamente il mini sette Arriva sempre Alla fine Della Heroic Brawl Heroic Brawl che inizierà il 3 gennario Andiamo a vedere quindi il calendario Il 3 è un mercoledì Come normale che sia Cos'è che succede? Di solito Finisce il 10 L'11 Viene annunciato Il mini sette Con una patch note E quando uscirà il mini sette Quindi uscirà il 16 di gennaio Quindi ragazzi Iniziate ad accumulare Assolutamente Le monete L'oro Quello che volete Fino ad arrivare a 2000 In modo da poter acquistare Il mini sette E stare tranquilli Con voi stessi Davvero Spero che vi possa importare Questa notizia Per quanto invece riguarda La patch 28.2.2 È una patch di solo dati Quindi non dovete aggiornare nulla Hanno fixato molti bug Hanno fatto anche aggiornamenti generali Sul battaglia Ad esempio I tempi di turno All'inizio Sono leggermente più brevi Per accelerare tutto quanto Inoltre Hanno fatto anche aggiustamenti All'armatura Comunque vi lascerò La patch qui in descrizione Come vi lascerò Anche la patch 28.2 E inoltre Anche la notizia Del master tour Così avete tutte quante le info Comunque noi andiamo avanti Hanno fatto aggiustamente all'arena I tassi di apparizione delle carte Sono stati modificati Ovviamente in base al meta In base a cosa è più forte E non è più forte Fanno apparire O Fanno apparire meno Determinate carte Classe sacerdote generale È stata aumentata Perché si vede che è un pochino Debole Inoltre Percentuale di apparizione Di alcune carte Da alto impatto È stata aumentata Per sacerdote Quindi Stanno usciando più sacerdote Ladro E stregone Ed è stata ridotta Invece per cacciatore Di cappa paladina Guerriero Che si vede che sono Troppo forti Per quanto riguarda I bug invece Sono stati risolti Un po' di bug Che comunque potete leggere Qui Insomma Io vi ricordo quindi E vi aspetto Soprattutto alle 17 In live Su Lugozzi Come detto Passerò anch'io Lugozzi Kaius I vari drop Aspettiamo Il mini set Del 16 E soprattutto La patch in verità Che arriverà martedì E soprattutto Ci domandiamo Anche Chi vincerà Questo mondiale Ragazzi Io Per ora È tutto Un bel mi piace Un'iscrizione Se questi video Vi servono E sono utili Mi raccomando Lasciatemi Che a voi Che a voi Non costa nulla E per me È davvero Molto importante E noi Ci vediamo Domani Con un nuovo video Ciao 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 Grazie a tutti.